Torna il gran galà degli sport da combattimento, le stelle del ring, uno degli eventi di kickboxing più attesi e partecipati della penisola, organizzato dal team Iachini con i patrocini del comune di Capolona e di Subbiano. L'evento, giunto alla sua 25esima edizione, è in programma sabato 3 giugno allo stadio comunale di Capolona e darà vita ad una giornata ricca di incontri tra atleti provenienti da ogni zona dell'Italia. Questa è la dimostrazione di come con lo sport si riesca a fare gruppo e è proprio l'obiettivo dello sport fondamentale, quello del fare gruppo, lavorare in sinergia e ottenere dei grandi risultati. La manifestazione troverà il proprio cuore nei combattimenti per l'assegnazione dei tre titoli italiani. Abbiamo il titolo italiano nei pesi medi, il titolo italiano nei super medi e nei super massimi. Nardecchia contro Selicato, Velea contro Agaglio e Ilias contro Corsetti. E poi ci saranno anche altri incontri però? Sì, abbiamo altri cinque match da professionisti oltre ai titoli italiani.